Bentornati, sono Mamamazzo e bentornati nella rubrica Dilan Dog, bentornati nella rubrica Retro Dilan. Quest'anno si festeggiano i 35 anni di Dilan Dog e per l'occasione, insieme al numero 421, la variabile di cui ho già parlato con voi nel video apposito che vi metto qua nelle schede e qua in descrizione, c'era in allegato, in omaggio, la versione ristampata a colori del numero 1, l'alba dei morti viventi, e quindi quale occasione migliore per parlarne oggi insieme con voi. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno un papà stregone negromante e di commentare qui sotto con quello che ne pensate di questo video, di questo numero e se quando è uscito in edicola l'avevate letto o se siete giovincelli e l'avete recuperato dopo, o se non l'avete ancora letto. Che versione avete di questo fumetto? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Dilan Dog numero 1, l'alba dei morti viventi. Ovviamente questa è una versione tutta a colori, ci tengo a dirlo perché io Dilan Dog ok, lo leggevo da piccolo, l'ho già detto, il mio primo numero con cui ho avuto a che fare di Dilan Dog è stato il 51, il male è un numero molto splatter, però ecco lo leggevo come si legge da bambini, si prende ogni tanto in edicola, te lo passa l'amico, diciamo che ho ricominciato a incontrare in modo continuo Dilan Dog proprio per il trentesimo anniversario di Dilan Dog, ho recuperato i vecchi fumetti, ho ricominciato però dal Color Fest, quindi trovare il numero 1 a colori per me è stata una grande gioia, tra l'altro il tipo di colorazione molto pop, molto tinta unita diciamo con poche sfumature su questo numero mi piace tantissimo, quindi ne sono molto molto felice, ho già il primo numero l'alba dei morti viventi, tra l'altro sempre a colore nell'edizione, quella ristampa color di cui l'anno prossimo ne parleremo meglio, nel senso che l'anno prossimo userò quei fumetti per fare il retro Dilan. Però ecco, avere il formato Bonelli de originale mi entusiasma molto di più, tra l'altro sul retro c'è quello che è solitamente stato il frontespizio più famoso, non il primo frontespizio, il secondo frontespizio disegnato da Angelo Stano, il numero stesso è disegnato da Angelo Stano e la copertina è di Claudio Villa, il primo copertinista di Dilan Dog. Ma parliamo della storia che uscì nel lontano settembre 1986 che all'inizio non riscosse poi quale successo inaspettato, non pensate che Dilan Dog abbia ingranato subito, anzi è proprio quando fu quasi sul momento di chiudere, di diciamo dichiarare bancarotta, che credo Tiziano Sclavi e Labonelli si giocarono il tutto e per tutto e lì venne fuori davvero il Dilan Dog che amiamo. Qui credo proprio che Tiziano Sclavi, che comunque ha disegnato delle storie della Madonna nei numeri successivi a questo, qua si è proprio trattenuto, nel senso che questa è una storia molto pop, molto alla portata del popolo, molto alla portata del popolo degli anni Ottanta, richiama tranquillamente il tema degli zombie, sì c'è il fatto, questo Xabaraz magari nella sua testa poteva già essere il padre di Dilan Dog come uno scienziato qualunque, però è davvero tutto molto campato un po' pelaria, nel senso che Dilan Dog non ha assolutamente il carattere che noi conosciamo ora di Dilan Dog, fa un po' il provolone con Sibyl Brown, le dice zitta pupa, faccio io le domande, sono proprio quelle cose anni Ottanta che però non si prestano nemmeno a Dilan Dog, a quello che poi è stato il vero Dilan Dog, quando ci prova apertamente con Sibyl Brown, se questa storia l'avessero scritta nel 2020 sarebbero in sorte ogni sorta di lamentele da parte di gruppi, dal femminismo per la lotta di genere eccetera, ma anche il Dilan Dog stesso non è mai stato così aggressivo nell'amore, sì è vero che dice a una cliente su tre mi sono innamorato follemente di te, ma un conto è dire mi sono innamorato follemente di te, un conto è avvicinarsi in casa tua a una cliente che è seduta sulla tua poltrona e dire ti posso baciare, insomma non era proprio il Dilan delicato che abbiamo conosciuto poi con gli anni. La storia è più un omaggio alla cultura dei film horror e all'arte che non una storia a livello narrativo in sé, a livello narrativo non è molto potente come storia, però cita delle tavole artistiche, tra l'altro nella nostra live Dilan Dog è l'arte, mi sa che mi sono scordato di citare questa cosa, no scusate cita un film, ecco questa scena delle biciclette, quindi l'espediente narrativo per far usare le biciclette a Dilan, Groucho e Sibyl e non le auto, è per disegnare questa scena che richiama la scena di un film, mi scuserete non mi ricordo quale, anzi se voi lo sapete scrivetemelo qua sotto nei commenti. Anche appunto dato che ho parlato di Groucho, il personaggio di Groucho lo vediamo per la prima volta aprire la porta di Sibyl Brown con il campanello che urla, e credo che la prima sensazione che possiamo provare è quella che prova Sibyl, cioè è davvero fastidioso come personaggio, perché parla a vanvera, dice cose senza senso, le battute di Groucho sono abbastanza, cioè non sono battute, il fatto che Groucho parli in questo modo ti fa dubitare della sua sanità mentale, mentre mi è piaciuta molto la battuta quella appunto quando sono in giro in bicicletta e hanno speso le sole 5 sterline che avevano in 3 per noleggiarle e Sibyl dice mi manca il fiato e Groucho dice a me mancano 5 sterline. Ecco questo è il Groucho tagliente, pungente, che a me piace, che tuttora oggi dopo 35 anni non è ancora ben centrato, è ancora il Groucho che parla a vanvera per l'80% delle storie. Questo numero ha dei pregi e dei difetti, tra i pregi vediamo subito delle scene iconiche che poi ci saranno nella storia di Dylan Dog, il fatto che lui sta montando il suo veliero, il fatto che lui suona il clarinetto con il trillo del diavolo, però ci sono anche cose che a me da lettore mi danno un po' fastidio, il fatto che vadano a Inverness che è un paese reale, dove è nata per esempio Karen Gillian dei Guardiani della Galassia, un paese in Scozia, e da Inverness vanno in una cittadina sperduta che è Undead, che non esiste, ecco il fatto che una cittadina si chiama Undead, non morte, ci siano gli zombie, per una persona che conosce l'inglese è davvero una cosa stupida da leggere, però allora probabilmente per l'italiano medio anni 80 che non sapeva un cazzo d'inglese poteva essere anche un bel nome pittoresco. Un'altra cosa che non mi è piaciuto ovviamente è il Deus Ex Machina della valigetta, la valigetta che è stata acquistata e che contiene un esplosivo, perché è davvero brutto come spediente, è un Deus Ex Machina perché è il numero uno e non viene spiegato in nessuna tavola precedente, se non quando serve, che Dylan ha questa custodia particolare. non ha senso, è davvero buttato lì. Poi certo con un po' di retcon spiegano che l'ha trovata a Safarà, Safarà comunque trascende lo spazio e il tempo, eccetera, però come storia in sé è davvero deboluccia, davvero deboluccia e immagino che in bianco e nero, in un'edicola, il grosso è stato la copertina che possa aver fatto il forte degli acquisti. Le stesse doti da indagatore di Dylan Dogg si limitano al fatto che scrive a Xabaraz e dice che è l'anagramma di Abraxas, che è uno dei tanti nomi del diavolo, ma esticazzi aggiungerei. Non c'è nulla di diabolico in questo, anche perché poi si scoprirà che Xabaraz, sì, ok, è un negromante, la sua vita è stata allungata artificialmente, ma fondamentalmente è un essere umano, quindi che cazzo c'entra che sia l'anagramma del diavolo, chi se ne frega. Però vabbè, all'epoca probabilmente faceva un po' tanto sovrannaturale, così come anche la presenza degli zombie, che tra l'altro le scene dove sono circondati dagli zombie sono davvero belle, poi ricolorate, sono una gioia per gli occhi. Per questo dico, è più un fumetto visivo, è più una storia visiva, che non una trama in sé che è stata arricchita con le tavole. Sono le tavole che fanno la maggior parte della storia. Questa semi-splash page finale, ci rivedremo Spider-Man! Cioè, ci rivedremo Dylan Dog. Tutto molto, non lo so, molto ingenuo, molto di un'altra epoca, però ecco, è quello che ha fatto nascere un'epoca. Tra l'altro, dato che si parla di anniversari, sono stato alla mostra per gli 80 anni Bonelli, che è a Milano, la fabbrica del vapore, vi metto qua sotto in descrizione l'indirizzo, è presente fino a gennaio. e ho avuto modo anche di chiedere alcune cose. Devo dire che ho parlato, ho chiesto della serie di Dylan Dog, di cui non si sa nulla, è ancora in fase di preproduzione, cioè nel senso, devono ancora scriverla fondamentalmente. e a me piacerebbe molto che quantomeno la prima stagione, perché fondamentalmente potrebbe essere anche l'unica stagione se le cose vanno male, ma diciamo, per la prima stagione di Dylan Dog, mi piacerebbe che prendessero spunto dalle tavole, dai numeri più iconici del Dylan Dog di Sclavi. Poi potrebbero fare una seconda stagione in cui si incentrano un po' di più sulla Barbato, per poi andare sul periodo orecchioni. Mi piacerebbe questa cosa. E mi piacerebbe che la prima puntata ripercorra quantomeno l'alba dei morti viventi, ovviamente mettendoci anche altri elementi. Per esempio qui è totalmente assente block, potrebbero metterci block, potrebbero mischiare altri numeri, magari qualche flashback al numero 200, ma quello potrebbe venire comunque più avanti, sarebbe molto carino come prima puntata della seconda stagione, no? In cui fanno vedere come si sono conosciuti block, Groucho, Dylan, quello sarebbe una figata. Però ecco, mi piacerebbe che nella prima stagione ci fossero queste citazioni proprio, non delle storie liberamente tratte da Dylan Dog, come abbiamo visto nel film del 2010, ma a voglio proprio che vengano citati gli album. Così come i film di più successo dei supereroi eccitano comunque le run fumettistiche. Il Batman di Nolan comunque si aggrappa parecchio alle storie fumettistiche. Lo stesso Spider-Man 2 di Sam Raimi, che è quello più riuscito a livello cinematografico, si aggrappa tantissimo al numero 50 di Spider-Man. Quindi ecco, io spero che Labonelli ci pensi e faccia questa cosa. Scrivetemi qua sotto nei commenti anche cosa vorreste vedere da un'ipotetica serie di Dylan Dog. Ovvero, secondo me, se non cambiano idea, la serie dovrebbe essere di 10 episodi. Scrivetemi qua sotto quali sono i vostri 10 numeri a cui la prima serie di Dylan Dog, la prima stagione dovrebbe attingere. Ecco, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, ci vediamo il mese prossimo per il prossimo retro Dylan e tra qualche giorno per il prossimo video. Arrivederci.